Dottoressa Cocchiglia, abbiamo parlato di cloud computing, abbiamo parlato di salute, lei lavora in un centro di competenza proprio per la salute digitale e health. Al di là del tema del cloud computing, quali sono le grandi novità che ci dobbiamo aspettare nel campo della salute grazie alle tecnologie digitali? Sì, allora, per chi non lo conosce, Arsenal è il centro di ricerca della Regione Veneto per la sanità digitale. Su questo tema riprenderei un po' le parole iniziali in cui è stato esplicitato che effettivamente i due fattori abilitanti verso una trasformazione digitale sono da un lato l'infrastruttura, dall'altro mobile. Diciamo che tutta l'area di cui sono responsabile in Arsenal che si occupa di ricerca e innovazione va, diciamo così, a prendere queste due facce della medaglia. Da un lato quindi quello di cercare di creare un'infrastruttura cloud. Perché cloud? Perché cloud offre tutta una serie di potenzialità su cui possiamo iniziare a livello di big data sanitari a parlare di artificial intelligence, di sviluppo di sistemi di supporto alla decisione clinica, di machine learning, quindi utilizzare quello che ormai è il fascicolo sanitario elettronico regionale che è una realtà ormai consolidata e soprattutto l'infrastruttura di interoperabilità regionale per andare a prendere tutta quella parte di dati, quindi di big data sanitari, su cui fare finalmente progetti innovativi, progetti di supporto alla salute sia lato operatori sia lato cittadini. Dall'altra parte invece la parte mobile perché è chiaro che dobbiamo ormai spingerci verso i cittadini, ormai è un anno e mezzo che stiamo cavalcando un'iniziativa che si chiama Sanità chilometro zero che riprende un po' la doppia prossimità, da un lato quella di portare i servizi al cittadino, dall'altro di svilupparli con il cittadino. Rispetto a queste due accezioni, sulla prima secondo me bisogna lavorare soprattutto nella parte di creazione di servizi col cittadino per andare a fare un improvement di quelle che sono anche le sue skills digitali. Abbiamo una serie di progetti nelle scuole ovviamente per andare a cercare di spiegare a chi è già nativo digitale quelli che sono effettivamente i potenziali servizi a cui può accedere. Dall'altro lato però non bisogna abbandonare tutta quella fascia di popolazione che non è nativa digitale perché la scelta che è stata fatta in Veneto è quella di non essere mobile first ma mobile only. Ad oggi ci sono alcuni servizi tipo la dematerializzazione della ricetta farmaceutica che sono offerti esclusivamente tramite un'app. È sicuramente una scelta disruptive rispetto a quelli che sono i servizi della pubblica amministrazione in genere, ce ne rendiamo benissimo conto, però è anche l'unico modo secondo noi per andare ad agire sulla popolazione a 360 gradi per aumentare gli skills. I dati ci rispondono in maniera positiva, abbiamo tutta una serie di utilizzatori dell'app che hanno un'età che va dai 70 agli 82 anni, per cui è chiaro che la popolazione ormai è pronta a fare questo cambiamento, è chiaro che bisogna seguirla e aiutarla. Dall'altro punto di vista invece bisogna cercare, secondo noi, oltre a creare i servizi con loro, di renderli proattivi nella creazione di questi, quindi cerchiamo di organizzare degli eventi sia con quelli che sono i cittadini barra pazienti, sia con quelli che sono gli operatori, per cercare di tirare fuori da loro stessi le esigenze. È ovvio che in tutto questo ci deve essere però parallelamente anche un intervento lato regionale e lato delle aziende sanitarie verso un'evoluzione dei servizi stessi, quindi bisogna che non solo i servizi a livello infrastrutturale tecnologico, ma anche il modello organizzativo che sottende tutti questi servizi cambi, perché se no è chiaro che non si riesce a dare a cittadino un'esperienza che sia effettivamente nel servizio digitale a 360 gradi se abbiamo dei verticali della pubblica amministrazione che non parlano tra loro. Quindi il primo lavoro per sotto è quello di creare appunto anche un'infrastruttura di interoperabilità a livello di data center, di dati, che non sia più solo sanità, enti locali, scuola e tutta la serie di verticali che abbraccia la pubblica amministrazione ma che siano interconnessi tra loro.